Allora vediamo, aspettiamo cuoricini, manini, vediamo se si comincia, vediamo, non vedo nulla per adesso, adesso vedo, due, tre, quattro, quoricino, bellissimo, grazie Armando, shalom, 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 ok, anche tu Romana, grazie, 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 ok, shalom, buonasera a tutti, vi voglio tanto, tanto, tanto bene perché mi sono reso conto sempre di più, grazie al cielo sto crescendo ogni giorno di più e mi rendo conto che siamo sempre più uniti perché Hashem ci dà tutto, la vita, la nostra, essere tutto quello che possediamo è tutto grazie a Lui nel mondo, è tutto Lui, Allora quindi siamo tutti connessi e dobbiamo volerci bene tanto, 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 ok, come è stato già scritto nei messaggi del Facebook, allora oggi abbiamo nella Parsha che leggeremo questo Shabbat, che è Parsha Mishpatim, Mishpatim, leggi di giustizia, vuol dire leggi che sono nella capacità della gente di accettarli veramente con la loro intelligenza umana, Allora abbiamo una difficoltà che noi sappiamo che in Abraham Lincoln lui ha liberato i schiavi in America centinaia di anni fa, invece la Torah che è presente ed è attuale anche oggi nel 2022 il 2022 concede la possibilità di comprare schiavi ed è una cosa che dobbiamo spiegare in una maniera giusta che corrisponde alla verità e allora cominceremo nella lezione spero di arrivare a spiegare che voi sarete capaci diciamo di capire ed accettare ok, siamo nell'esodo capitolo 21 brano 1 esodo capitolo 21 brano 1 nella nostra pentateca e pagina 278 ok, settimana scorsa abbiamo letto della promulgazione della Torah e abbiamo spiegato che cosa era la novità della promulgazione della Torah che ormai 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 che i nostri avi hanno tutti osservato tutti i concetti, comandamenti, istruzioni della volontà di Hashem allora che cosa era la novità della promulgazione della Torah? allora abbiamo spiegato che per la prima volta Hashem ha tolto questa divisione che c'era fra il mondo spirituale e il mondo materiale e lui ha iniziato, è sceso in forma di fuoco sul monte di Sinai nel deserto e il monte fumava e ho spiegato che cosa ci racconta questi effetti speciali e poi è perché quando qualche cosa fuma vuol dire che è stata penetrata dal fuoco vuol dire che la materia della montagna è stata proprio trasformata in qualcosa di diverso e vuol dire che c'era un'unione fra il mondo spirituale e il mondo materiale e poi Hashem lui diceva ha dato a noi i dieci dibrod che viene tradotto in comandamenti e questo è che abbiamo letto la settimana scorsa cominciamo questa settimana subito dopo parashat yitro allora comincia la Torah a dire che tu metterai davanti a loro davanti al popolo vuol dire gli spiegherai bene che potranno veramente capirli poi allora prima di entrare nel secondo brano allora spiegheremo cosa sta dicendo a noi questo brano e questi sono le leggi Mishpatim Mishpatim viene dalla parola Mishpat giustizia vuol dire che sono leggi che l'intellettuale umano il cervello di una persona riesce a capire arriverà da solo a diciamo elaborarle elaborarle e applicarle applicarle queste leggi per esempio non uccidere questo è un Mishpat è una cosa logica non rubare è una cosa logica e non portare danni a qualcun altro questo fa parte delle leggi che fanno parte dei Mishpatim delle giustizie ci sono tre categorie nelle Mishpat nei precetti di Dio qualsiasi precetto di Dio viene chiamato una Mishpat che cosa vuol dire la parola Mishpat abbiamo spiegato già tantissime volte Mishpat vuol dire unione viene tradotto anche come comandamento però perché viene scelto la parola Mishpat per esprimere un comandamento perché Mishpat vuol dire essere insieme una persona umana creata da Dio non ha alcuna diciamo unione con l'onipotente com'è possibile che una persona limitatissima con tutte le sue possibilità molto strette come potrà avere un diciamo un una affilazione con Dio un'ipotente se una persona ascolta al comandamento e alla volontà di Hashem allora riesce ad avere un rapporto stretto e unirsi con Hashem per dare un esempio c'è professor Einstein lui è un massimo dell'intellettualità eccetera e c'è un bambino di 7 8 anni non hanno niente in comune non hanno qualsiasi relazione uno con l'altro però professore ingegnere professor Einstein ha bisogno di avere un pacchetto di sigarette allora chiede questo bambino per favore vai al negozio che è proprio due passi di qua non si deve attraversare nessuna strada mi porta un pacco di sigarette e il bambino va se prima questo bambino non aveva alcun rapporto alcun diciamo legame con professor Einstein dopo che lui ha portato un semplice pacco di sigarette ormai è diventato legato con il professor perché ha dato al professore quello che desiderava e questa è la stessa che danno diciamo l'esempio quando Hashem ci dà una mitra un comandamento e noi osserviamo diventiamo legati con Hashem perché abbiamo compiuto la sua volontà ecco perciò viene chiamato un suo comandamento comandamento mitzvah unione legame ok allora ci sono tre tipi di mitzvot tre categorie chukim decreti eidot testimonianze eimishpatim e leggi diciamo logici chukim decreti viene dalla parola la chok di incidere vuol dire quando una persona scrive una lettera su un foglio con dell'inchiostro allora si legge però il foglio di carta è una cosa sopra il foglio della carta c'è inchiostro però l'inchiostro e il foglio di carta sono due cose ben separate e viene iscritto un messaggio questo è quando si scrive qualche cosa con l'inchiostro sulla carta però quando uno prende un pezzettino di legno e incide una frase un messaggio sul legno allora quello che viene inciso non è qualche cosa che è stato aggiunto al legno le parole che vengono incise fanno parte della legna stessa unitissimo con la legna stessa ecco ecco perciò quando parliamo del quando parliamo dei decreti vengono chiamati hukim incisioni vuol dire che quando si parla della volontà di Hashem parlando di questi decreti che non hanno nessuna possibilità alla gente comune limitata di poter capire la ragione perché non possono capire perché l'origine di questo comandamento è come una cosa incisa nell'essenza di Hashem è così unito con Hashem che noi gente limitata non possiamo capirli ecco perciò vengono chiamate hukim parole leggi incisi nella essenza di Hashem ecco perciò non possiamo capire per esempio il devieto di mangiare diciamo maiale questo fa parte uno dei decreti non possiamo capire un'altra legge che viene diciamo nella categoria dei hukim è vietato indossare un vestito che ha un mescuglio di lino e lana anche se non è adesso il momento di spiegare c'è qualche spiegazione che danno i maestri però infine fanno parte dei hukim delle leggi che non hanno una ragione intellettuale di poter spiegare il perché Hashem ci ha dato questo comandamento è qualche cosa al di sopra delle nostre possibilità di capire questi sono hukim poi ci sono leggi che fanno nella categoria di eidot testimonianza vuol dire Hashem ci diede dei mitzvot dei comandamenti che fanno testimonianza a certe cose che sono accadute per esempio la legge di Shabbat Shabbat è una testimonianza che noi crediamo che Hashem è il creatore del mondo Hashem ogni singolo giorno da domenica ha venerdì ha portato dei cambiamenti nel mondo per Hashem non c'era alcuna difficoltà di creare il mondo per Hashem è tutto facilissimo basta che lui dà un pensierino e tutto succede viene chiamato una milaha un riempimento perché è stato riempito è stato fatto qualche cosa Hashem ogni giorno dei sei giorni di creazione Hashem ha nascosto se stesso nei creati che lui ha creato il settimo giorno che non è venerdì sera perché è venerdì sera fa parte ancora di venerdì noi accendiamo le candele diciotto minuti prima del tramonto per Shabbat vuol dire Shabbat sabato sera inizia per il mondo è venerdì sera per noi è già sabato sera perché noi non siamo muslimani che diamo sacralità alla giornata di venerdì noi diamo santità alla giornata di Shabbat accendiamo prima della giornata di Shabbat le candele di Shabbat allora arriva Shabbat sera e poi arriviamo a Shabbat mattina nel giorno di Shabbat Hashem non ha portato qualsiasi cambiamento nel mondo non ha fatto nulla di nuovo quello che è stato creato nei primi sei giorni sono continuato ad essere anche nel giorno di Shabbat e allora per dimostrare che noi crediamo che Hashem è il creatore del mondo come lui non ha fatto alcun cambiamento nel giorno di Shabbat ci chiede nei dieci comandamenti ricordi e osserva la giornata di Shabbat non fai alcun lavoro come io non feci alcun lavoro neanche tu devi fare qualche lavoro e così hai dimostrato che tu credi in me ecco perciò l'ebreismo dà molto molto attenzione all'osservazione di Shabbat perché non basta dire io credo nel mio cuore parole costano molto poco possono essere di una falsità non c'è alcuna diciamo prova che questo corrisponde alla verità però Hashem ti chiede nei dieci comandamenti che abbiamo sentito dalla sua parola ricordi il giorno di Shabbat osserva il giorno di Shabbat come io non feci alcun cambiamento non fai neanche tu alcun cambiamento non è una questione una volta per fare un fuoco si doveva andare alla foresta fare diciamo tagliare il legno wow era una difficoltà oggigiorno basta di scacciare un pulsante allora c'è già luce non è un lavoro lavoro non vuol dire difficoltà io ho una casa di dieci stanze posso portare tutti i mobili che io ho di una stanza nell'altra tutto il giorno sono affaticatissimo non ho fatto alcun lavoro perché non ho cambiato nulla una cosa che era in casa mia ho portato in casa mia un'altra camera non c'è problema anche se sono super stanco però schiacciare il pulsante dell'ascensore anche se io abito sul trentannobesimo piano camminare su trentanove piani che io non sono un magrolino e allora è una fatica mamma mia non è considerato un lavoro schiacciando questo piccolo pulsante che fa portare l'ascensore e poi vado su questo è considerato un lavoro perché ho creato energia ho cambiato lo stato del mondo c'è tanto da parlare diciamo di questa idea però questo per darvi un esempio questo è un'amministra della categoria della categoria testimonianza che noi quando osserviamo le leggi di Shabbat siamo testimoni ci crediamo in Dio se noi accendiamo la televisione prendiamo il telefono stato il cambiamento diciamo creato diciamo delle energie anche se dico che credo in Hashem non ha alcuna validità è soltanto bla 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 non credo in Hashem io sono mio io sono tutto Hashem arrivederci non mi interessa queste sono leggi che fanno parte di e dot di testimonianza anche le leggi di Pesach Pasqua sono leggi che sono testimonianze che noi siamo usciti dall'Egitto oggi i barucascienti sono archeologi che loro trovano nei piramidi di Sastoria degli schiavi ebrei cioè ok queste sono leggi della categoria di e dot e poi c'è una categoria di leggi che vengono chiamati Mishpatim dalla parola Mishpat giudizia vuol dire che una persona con il suo diciamo mente diciamo dritto una persona che ha un equilibrio raggiunge da solo a capire queste leggi come abbiamo detto di non rubare non uccidere non danneggiare queste sono leggi di Mishpatim di giustizia se Hashem non ci comandava nella Torah leggi di giustizia allora la società per poter continuare a vivere in pace loro sarebbero di stiamo d'accordo con il Parlamento e con il governo di diciamo istituire queste leggi questi sono Mishpatim e di questi Mishpatim parla la parasha della nostra settimana e come dice veile Mishpatim e questi sono leggi Mishpatim leggi di giustizia di logici che metterai le fneiem davanti a loro allora chiedono diciamo i commentari siccome ci sono tre tipi di leggi come abbiamo appena spiegato Hukim Decret Testimonianz e leggi logici e abbiamo appena finito di parlare della promulgazione della Torah che abbiamo sentito da Dio stesso le leggi allora come continuazione quali sono le leggi più vicino alla promulgazione della Torah sono i decreti allora tutto fa parte della Torah allora nella nostra parasha che segue la promulgazione della Torah si dovrebbe parlare di Eile Hukim e questi sono i decreti che devi mettere davanti a loro che è una continuazione da quello che abbiamo studiato sentito settimana scorso però spiegano il mio maestro il Rebbe di Lubavitch spiega in una maniera così logico così bello e spiega così come abbiamo spiegato che cosa era la novità assoluta della promulgazione della Torah che c'era che c'era un'unione fra Dio lo spiritualità e il mondo materiale però questa unione esiste in due maniere uno che Dio è che la spiritualità è scesa sulla materia però dall'altra parte la materia è stato trasformato è stato permeato della presenza di Dio e allora siccome questo era tutto l'idea della promulgazione della Torah allora è giusto di parlare subito dopo che abbiamo finito di parlare della promulgazione della Torah nella settimana scorso si dovrebbe parlare di Mishpatim che Mishpatim sono leggi che la persona dice io non ho bisogno per un comandamento di Ashen di capire che non si deve uccidere rubare eccetera io capisco io sono una persona civile raffinato io capisco questo da solo allora ecco perciò subito dopo la promulgazione della Torah parliamo di queste leggi logici che una persona deve osservare queste leggi logici così diciamo comprensibili non perché io capisco così ma perché questo è la volontà di Hashem io persona umano raffinato civile osservo questa legge non perché voglio vivere in pace non voglio vedere che la mia macchina è stata rubata perciò facciamo la legge che non si può rubare faccio questa legge di non rubare perché questa è la volontà di Hashem così la parte materiale si inalza e viene permeato con la presenza di Hashem perché io osservo questa legge non soltanto perché ho deciso io ma perché questa è la volontà di Hashem così c'è un'unione fra l'auto e il basso ecco perciò si parla subito dopo la promulgazione della Torah si parla di Mishpatim di legge logiche e perciò si può anche capire il linguaggio della Torah guardiamo la prima parola della Parsha 21 1 vi eile e questi sono le leggi logici allora questo è una nuova parasha questo viene chiamato Parsha Mishpatim la parasha precedente è Parsha Yitro io quando prendo un nuovo libro non inizio il libro ehi c'era una volta c'era una volta siccome è un nuovo libro inizio non si dice ehi c'era una volta c'era una volta allora questa Parsha doveva iniziare ehi c'era ehi c'era ehi c'era ehi c'era questi sono le leggi logici comprensibili che devi diciamo mettere davanti a loro ehi c'era ehi c'era ehi c'era ehi c'era studiato letto nella Parsha settimana scorsa come settimana scorso abbiamo parlato della promulgazione della Torah abbiamo sentito dalla parasha stesso le sue parole nei dieci comandamenti questi mi spattiamo anche se sono cose logici ehi questi vuol dire che dobbiamo osservarli non perché capisco io così voglio io io decido tutto no perché è una continuazione ed è legato all'istruzione delle settimane scorse dei dieci comandamenti ci sono anche queste leggi logici mitzvot unioni con Hashem e facciamo perché lo vuole Hashem perché anche nelle leggi logici ci vuole il legame con la volontà di sempre osservarli giustamente perché con la logica una persona può venire a dei sbagli incredibili non parla adesso di covid eccetera parliamo c'è un poveraccio lui ha fame entro in un supermercato c'è roba vuole prendere una mela una mela perché ho fame non vede nessuno prende una mela e rimette in tasca sua nessuno ha visto essere fuori dalla logica umana diciamo chiudiamo un occhio chiudiamo due occhi però siccome questo è una legge fondato da Hashem è vietato hai fame vai al direttore del negozio spiegarlo guardi voglio dire il mio alito ho fame non ho mangiato da due giorni mi puoi regalare una mela e magari se vinco il supermerotto ti pagherò questo è la ragione perché anche leggi logici devono essere osservate per la volontà di Hashem perché Hashem è perfetto e se uno comincia a utilizzare la sua intelligenza e cominciare a trovare dei modi di poter uscire dalla legge allora non si sa dove finire guardi i tedeschi durante la seconda guerra mondiale e oggigiorno l'ONU hanno votato che Kotel maravì come si chiamano il muro del pianto non è stato mai degli ebrei è sempre stato di islam il posto del santuario non è stato mai dei ebrei dei cattolici è sempre stato dell'islam mettiamo alla votazione hanno votato è di islam questo è quando utilizziamo la nostra logica che è tutto falso tutto falso e poi possiamo anche capire un'altra cosa noi sappiamo che abbiamo parlato non ho parlato qui ho parlato in tempio di shabbat c'è scritto che quando gli ebrei loro hanno sentito i dieci comandamenti di Hashem dice il Talmud che loro hanno visto con i loro occhi quello che normalmente si sente ti ricordi di shabbat abbiamo parlato allora noi sappiamo che Hashem non fa dei miracoli inutili come mai il Talmud ci racconta che quando c'era la promulgazione della Torah c'era questa cosa sovranaturale che gli ebrei hanno visto con loro occhi quello che normalmente si sente allora ho sentito dal mio papà adava shalom la sua anima pace era una brava persona e allora lui ci ha spiegato ai suoi figli quando eravamo alla tavola di shabbat allora uno dei dieci comandamenti si legge nella Torah lo tirzah lo tirzah viene tradotto non si può uccidere la parola lo che in ebraico quelle che diciamo vogliono studiare un po' di ebraico mi possono te la ah si voglio ricordare ti ringrazio vi ringrazio Rosanna e Romana che mi avete telefonato una settimana dopo l'altro mi avete dato tanto riscaldamento nel cuore vi voglio tanto bene anche non non so come siete diciamo brutti belli senza altro che siete belli perché io ho grazie a 76 anni ancora da trovare una brutta donna nel mondo io non ho visto mai una brutta donna sono tutti belli però voi siete stra belli non vi ho mai visto però come voi avete l'anima bella allora senza altro questo anche diciamo fa un effetto anche sulla vostra faccia eccetera 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 allora grazie che mi avete chiamato e allora quelli che vogliono studiare un po' di ebraico mi chiamate e mettiamoci d'accordo e allora quando si dice la parola lo allora ci sono due modi come scrivere la parola lo corrispondente ai dieci comandamenti lo terza non uccidere c'è lo scritto con un alef vuol dire non lo scritto con un vav ci viene letto lo lui allora se gli ebrei avesse sentito da dio lo tirzah allora c'è un tipo che è un pesantuccio che è un faramuto e allora se uno sentiva soltanto soltanto con gli orecchi lo tirzah allora siccome questo qua mi antipatico ho sentito da dio lo tirzah io sento e capisco lo lui tirzah cadazzilo ecco perciò a scema ha dovuto fare un miracolo per quei tipi che loro hanno dei nemici vedete quello che normalmente si sente guardate c'è scritto con un aleph lo tirzah non si può uccidere anche se è antipatico a te questo è indirizzato a tutti i nostri antisemiti a tutti diciamo diciamo quelle che loro tolgano l'indipendenza della gente uccidono in tutto il mondo non soltanto in questo paese all'altro paese dappertutto dappertutto anche in Europa allora ecco perciò dobbiamo avere proprio la connessione con Hashem anche quando si parla di leggi tipi mispatim logici perché se uno utilizza soltanto la sua logica allora potrà arrivare come abbiamo visto e come vediamo oggi come vediamo oggi per certe ragioni non voglio entrare in particolare si può arrivare alla situazione che viviamo oggi ok allora questo è un po' una spiegazione del primo piano è brano allora cominciamo a parlare dei leggi leggi logici brano due sei la ho si deve uscire libero senza pagare alcuna cosa tu hai comprato lui come schiavo soltanto per sei anni niente di più settimo anno è libero e poi ci sono tanti diciamo particolari e adesso dobbiamo spiegare come mai la Torah dà possibilità di comprare uno schiavo allora guardiamo bene in levitico 25 39 25 39 levitico 25 39 che nel nostro pentateco è su pagina e pagina 476 allora allora in levitico 25 39 se succederà che il tuo fratello un altro ebreo diventerà povero super povero e si trova nella tua cittadina nel tuo villaggio e venderà se stesso a te non ha soldi dovrà vivere non ha niente ha venduto tutto il suo campo ha venduto la casa ma c'ha la famiglia anche se non ha la famiglia lui anche allora vende se stesso come schiavo allora dice la Torah come dovrà comportarsi con lui allora la Torah che è la parola di Hashem non necessita di dire due volte la stessa legge basta che tu hai sentito il papà una volta basta una volta sai quello che il papà vuole e allora dopo che abbiamo studiato in esodo 21 nella parcia nostra quando comprerai uno schiavo ebreo e allora come mai è necessario scrivere il levitico di nuovo la vendita di uno schiavo ebreo allora spiega l'agmara si parla di due tipi di vendita si parla nella nostra parcia quando una persona e guardiamo proprio nella nostra parcia 22 2 esodo 22 2 pagina 284 cominciamo con uno se c'è un ladro che lui ha un timore di entrare in un negozio o in una banca a fare una rapina perché ha paura diciamo dei guardiani che li uccideranno li metteranno in prigione e allora c'è un rincone lui di notte dorme tranquillo non ha messo gli allarmi e scavo scavo sotto casa sua in bam achteret scava sotto casa di questa persona però il padrone sente qualche rumore e allora va a controllare con la sua candela si trova nello scavo gli mazzia si trova il ladro e allora il ladro e lui non vuole essere trovato eccetera e il padrone per salvare la sua vita l'ha dato a lui una sberla eccetera e l'ha ucciso e lui non può essere giudicato perché era autodifeso però se invece lui aveva una sicurezza come il sole brilla su di lui che questo ladro non farebbe male a lui perché era suo padre suo zio suo figlio uno nasce con una certa natura voglio il mio papà è un tirchio e allora prendo io quello che voglio allora ehi il padre dà al figlio o al suo babbo da lui una sveglia e muore il padre o figlio dammilo allora lui sarà giudicato a morte perché è sicuro che il suo padre non avrebbe ucciso lui però se lui ha dormito tranquillo e non si è svegliato e poi la polizia scientifica sono venuti e hanno trovato il segnale perché questo ladro ha dimenticato o è caduto dalla sua tasca la sua carta di identità salemi e salemi allora il ladro dovrà pagare la polizia va a casa del ladro e trova il bottino e devi pagare come la legge di un ladro deve pagare il doppio allora il main law se non hai i soldi per pagare il doppio ha già una parte del furto ha già venduto lui ha preso dieci lingotti d'oro ma sono rimasti uno due lingotti otto ha già venduto e non si sa dove sono andati a finire i soldi e se non hai i soldi di pagare il in car viene venduto quel ladro bignevato per il suo furto se noi mettiamo il ladro nella prigione come l'usanzo oggi c'è una volta non so oggi mi pare che loro escono fuori ecco perciò continuano ad essere tanti ladri ma una volta quando c'era un ladro è stato trovato e allora era due tre cinque anni nella prigione però una volta nella Torah facciamo dei prigioni e allora chi dovrà pagare la gente allora un ladro oltre che lui ha fatto ha commesso uno sbaglio grave la gente deve pagare per il suo mantenimento nella prigione per cinque dieci anni quello che i giudici hanno fatto dice la Torah no non è una logica ebraico ma il derubato lui vuole avere i suoi soldi i suoi lingotti d'oro non c'è problema prendiamo il ladro lo vendiamo come schiavo e i soldi che ricaviamo dalla vendita daremo al derubato questa è la legge ebraico della Torah allora di questo ladro parla la Torah chi ti knè quando tu comprerai e ved ivri uno schiavo ebreo un ladro che ha già speso otto lingotti allora lo venderai per sei anni deve lavorare allora i giudici il tribunale mettono un articolo nel Corriere della Sera ladro in vendita come schiavo chiunque che ha voglia di comprare un ladro portarlo in casa sua telefonate a questo e questo numero venite e potete guardare il ladro e ci mettiamo d'accordo con il prezzo che persona con una testa normale che ha una figlia che ha una famiglia ha un benessere che deve pagare per questo ladro comprando come schiavo allora una persona benestante che ha una famiglia ha dei valori in casa sua andrà a comprare uno schiavo che vivrà 24 ore su 24 ore in casa sua con tutta la sua famiglia e non soltanto che si prende il ladro questo ladro anche lui ha una famiglia dice la Torah quando diciamo non ci sarà troppo tempo il ladro quando il padrone cioè il compratore compra il ladro deve anche portare la famiglia e i figli del ladro in casa sua perché non si può abbandonare la famiglia allora comprando il ladro diventando schiavo devo mantenere la moglie e farla felice devo prendere pagare la scuola dei bambini ho acquistato un ladro schiavo e anche una famiglia extra che io dovrò mantenere diciamo per sei anni questa è la ragione perché per prima legge della giustizia logica si parla di schiavi una persona che ha un po' di umanità un po' di civiltà un po' di raffinatezza legge nel Corriere della Sera o un qualche altro giornale non so secondo me non so ladro in vendita poi siamo scesi a livelli incredibili una persona arriva che vive in città ebraici che vive in Israele scende ad un livello a rubare e ha già speso quello che ha rubato io che sono una persona benestante che Hashem mi ha benedetto io dovrò dimostrare ad Hashem che apprezzo la sua benedizione apprezzo che lui mi ha dato però utilizzerò i miei soldi che lui mi ha dato per aiutare un'altra famiglia devo riconquistare la giustizia a questo ladro e la sua famiglia devo dimostrarlo che si può e si deve vivere come una persona civile decente e ingiusto lo faccio vedere io come si deve vivere lo compro io e lo prendo la sua moglie con un sorriso e come si deve trattare uno schiavo ci sono tante leggi questo non c'è tempo adesso questa è la ragione perché per prima legge che si parla di giustizia civile si parla di comprare uno schiavo perché si parla di comprare uno schiavo chi è un schiavo chi è un ladro se tu vuoi poter vivere leggi civile nel modo giusto tu devi utilizzare i tuoi soldi non che i soldi diventano i padroni di te che tu per avere più soldi ingani questo dimentica della famiglia non arrivi in tempo qui e lì devi utilizzare i tuoi soldi come tu sei il padrone io utilizzo i miei soldi come voglio io lo utilizzo per riacquistare una persona che comincerà a diventare una persona decente questa è la ragione perché la Torah comincia a parlare di leggi logici con la legge di schiavitù perché se uno non ha capacità di comprare una schiava perché io non voglio avere una persona in casa mia che non potrò dormire perché non lo so se lui alza la mattina e prende il mio candelabro questo e questo io devo fare vedere a lui dove sono tutti i miei gioielli tutti i miei io do fiducia a te quello che è passato così parla il padrone al ladro io do fiducia a te e una persona può sbagliare dimentichiamo del tuo sbaglio io da questo momento in poi che tu sei in casa mia voglio che tu impari come io mi comporti con la mia famiglia con la mia moglie e con te con la tua moglie con i tuoi figli come una persona decente non voglio che tu perdi la mia fiducia qui sono i candelabri qui sono questo qui l'altro tu hai questo e questo da fare tu sei amato da me e dopo sei anni voglio che tu esci di casa mia io ti regalerò come anche questa c'è la legge che io ti dovrò dare tanti soldi tanti diciamo diciamo cibi eccetera eccetera ci sono le leggi e così potrai cominciare la tua vita a nuovo queste sono le leggi di schiavitù e queste sono l'inizio delle possibilità di vivere con civiltà toranica che Hashem ci aiuterà di poter entrare nell'atmosfera della Torah e studiare e studiare Torah con la volontà di essere vicino ad Hashem e che Hashem lui sente i nostri pensieri lui sente il nostro desiderio e così anche lui vorrà stare vicino a noi e noi abbiamo parlo per me poi sono sicuro che oggi tutti vogliono avere la venuta di Moshe che quando arriverà Moshe non ci mancherà nulla il male sarà inghiottito e tutti vivremo in pace senza aver bisogno di avere la polizia e questo accadrà perché Hashem vede che noi siamo pronti perché noi vogliamo fare la sua volontà e così lui farà la nostra volontà Shabbat Shalom a tutti di nuovo vi voglio tanto tanto bene io questa settimana soltanto da Rosanna e Romano ho ricevuto telefonate Shalom Shabbat Shalom e la prossima settimana e parleremo e discutiamo la prossima Parashah Shabbat Shalom ogni bene